L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Sono in prevendita i biglietti per assistere all'incontro che opporrà giovedì al nuovo Romagnoli di Campobasso, la Cavese, alla formazione molisana. La gara alla fine sarà regolarmente disputata all'orario federale, come già era stato comunicato dalla LND venerdì scorso. Quindi fischio d'inizio alle ore 16. Si era valutata anche l'opzione della notturna a Campobasso, così come era stato a Cavare Tirreni nel match d'andata, ma alla fine viene confermato l'orario pomeridiano. Per i tifosi di Cavare Tirreni, come disposto dalle autorità di pubblica sicurezza, ci sono 150 tagliandi in prevendita e si potranno acquistare esclusivamente nel punto indicato dal club Aquilotto. I tagliandi costano 9 euro, ridotti a 5 per gli under 18, e potranno essere acquistati fino alle ore 19 di domani. Venendo all'aspetto sportivo, il Campobasso parte in vantaggio, avendo vinto il primo round per 5 a 2 a Cava. E anche con una sconfitta con due gol di scarto passerebbe il turno e accederebbe alla finale con una fra Trapani e Caldiero Terme. La Cavese, per eliminare il Campobasso, è costretta a un miracolo. Dovrebbe andare a vincere in Molise con 4 gol di scarto. Invece, vincendo con tre reti di vantaggio nei tempi regolamentari, si porterebbe sui rigori e acquisirebbe comunque una chance di prolungare l'incontro ai tiri dal dischetto. Sono entrati in diffida per gli Aquilotti due difensori, Magri e 5, i quali erano stati ammoniti nel match di Cava. Nel Campobasso sono andati in diffida Bonacchi, Sdaigui, Di Nardo e Grandis e per ciascuno di loro una munizione inflitta dopodomani significherebbe saltare la successiva partita. Nell'altra semifinale di ritorno prevista a Erice, il Trapani parte dall'1 a 0 conseguito all'andata a Caldiero col gol di Samachè e si presenterà alla sfida di ritorno senza Crimi squalificato per quattro giornate per aver ripetutamente offeso l'arbitro. Nel frattempo, proprio ieri, presso la triennale di Milano, è stato presentato il nuovo logo del campionato nazionale di Serie C che sostituirà quello attuale dalla stagione 24-25. Un logo nel quale campeggia in bella evidenza la lettera C, che è la terza lettera dell'alfabeto. Così il presidente della Lega Pro Matteo Marani. Sono fiero di presentare il nuovo logo della Serie C No, un'opera di design che non poteva avere migliore palcoscenico della triennale di Milano, luogo rappresentativo della cultura italiana e del bello. La presenza di molti club di C rafforza il senso di fierezza di un movimento che è la base del calcio italiano e la forza di un campionato glorioso e storico, dal quale sono partiti giovani talenti diventati campioni del mondo. Ha preso la parola anche il vicepresidente vicario della Lega Pro, Gianfranco Zola. Sono molto contento di aver intrapreso questo cammino insieme al presidente Marani. Abbiamo deciso di puntare forte sui giovani, sugli impianti sportivi e sull'innovazione, con riforme e investimenti. Il nuovo logo va proprio in questa direzione. È un simbolo di novità e modernità, rivolto anche ai giovani. La Cavese è in attesa del positivo responso sulla domanda di iscrizione al campionato di Serie 2015, depositata giovedì scorso, una volta ottenuta per intero la documentazione richiesta. Per tutti i club aventi diritto alla partecipazione alla terza serie, il termine ultimo per consegnare la domanda era oggi.